Secondo fonti dell'amministrazione statunitense, la Russia ha dispiegato almeno 28 velivoli da combattimento nella nuova base aerea militare costruita a sud di Latakia, in Siria. Alla fonte americana, citata dal Financial Times, che ha mantenuto l'annunimato, si sommano alcune immagini satellitari che il Pentagono indica a riprova dell'escalation nell'impegno militare di Mosca in Siria, elicotteri MiG-24 e caccia Sukhoi-30 e Sukhoi-25, oltre a droni da ricognizione, il tutto a poca distanza dalla base navale di Tartus, dove si trovano 1700 persone, tra militari e personale tecnico. La presenza di armi e truppe russe sul territorio siriano era stata smentita nei giorni scorsi da Damasco. Tuttavia, a suggerire indirettamente che Mosca stia costituendo un avamposto militare nell'ovest della Siria è stato anche l'incontro del premier israeliano Benjamin Netanyahu con Vladimir Putin, il viaggio di Netanyahu, che si è spostato assieme al capo di Stato Maggiore e al responsabile dell'intelligence militare, era nato espersamente dal timore che gli Hezbollah ricevano armi russe e per avere l'assicurazione che i pasdarani iraniani resteranno lontani dal Gola.